Molti di voi, quando ho pubblicato il video di Revolution Drive, mi hanno chiesto che auto fosse questa. Questa, ragazzi, è la Dallara stradale, ma ve la faccio raccontare dal professore. Hai detto bene, Willy, perché la Dallara pesa 855 kg grazie al suo telaio sviluppato interamente in carbonio. Monta un motore 2003 Turbo Ford EcoBoost da 400 CV. E grazie a questo, Willy, può generare fino a 820 kg di carico aerodinamico. Quindi sì, ecco cosa ha comune una monoposta da Formula 1 con una Dallara. Il carico aerodinamico. È da un anno che non vedo una pista, non vedo un track day, non vedo delle macchine andare forte. E oggi, oggi sono felice perché è sabato. Beh sì, il sole splende. La pista è aperta. Saliamo su un Dallara. È in carbonio, ragazzi. Sì, è in carbonio. È in carbonio. Pesa niente, è il coso del retro della macchina. Bellissimo. 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 Wow. È da un sacco. Chiudi bene lì che... Ah... Devi far così... Forte, vero? Vai. No. Schiacciala giù là. L'hai schiacciata? Sì. O là. Adesso. Cosa ha fatto un tuo amico? È venuto sulla, ha vomitato dopo due giri. No, io non vomito. Cioè, non ho mangiato. Non vomito. Oh mio Dio. Però mi fai... Così mi fai fare una... Mi fai venire una caga. Tu vai, capito? Tu, qualsiasi cosa, tu vai, capito? Yes. Se sbocco, lo spengo. Vai. Ora hai i primi giri, ma sì. Wow. Wow. Ma sei serio? Ma non è vero! C'ho il freno che mi va giù il pedale. Non ti credo! No! Non ti credo! Non ti credo! Non ti credo! Grazie a tutti.